Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti al primo appuntamento con Udinese TV con la nostra rassegna stampa insieme a voi per leggere i giornali di quest'oggi, le prime pagine e poi le notizie locali, anche qualche approfondimento rispetto a quelli che sono i temi di giornale. Come ad esempio la situazione dell'epidemia in Italia ma anche la carenza di medici e di infermieri negli ospedali. Apriamo però con una ultima notizia che è arrivata proprio in questi minuti in redazione che riguarda un'operazione della squadra mobile di Pordenone che ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese, responsabili di decine di furti in centri commerciali in tutta Italia, specializzati in una particolare tecnica che applicavano soprattutto ai negozi H&M. La banda infatti arrivava ogni volta dall'Albania, noleggiava auto e compiva una serie di furti con lo stesso sperimentato sistema per alcuni giorni e poi rientrava nel proprio paese. Gli arresti e i fermi sono stati convalidati dal GIP del Tribunale di Pordenone. È stata anche sequestrata merce per un valore di circa 8 mila euro provento di furto. Le indagini sono cominciate lo scorso mese di settembre in seguito alla denuncia dell'avvocato di H&M sul verificarsi durante l'orario di apertura dei centri commerciali di una serie di furti di capi abbigliamento, in special modo nel punto vendita di Gran Fiume in provincia di Pordenone. Così la procura ha avviato un'attività di indagine svolgendo anche intercettazioni telefoniche e analisi del traffico della cella che è individuata la BAMDA ad edita di trasfertismo delittuoso. Nei soli mesi da settembre a dicembre soltanto in Friuli Venezia Giulia e in Veneto la BAMDA avrebbe compiuto almeno 14 furti. E questa è proprio una notizia di questa mattina che ci ha trasmesso direttamente la questura di Pordenone. Adesso guardiamo le prime pagine di quest'oggi con l'apertura sui super bonus senza limiti per le villette e anche cosa cambierà per bollette e tasse. L'approfondimento sul Corriere della Sera riguarda la commissione bilancio sul maxi emendamento del governo. La manovra però si blocca e passerà al vaglio di Palazzo Madama prima di Natale. L'accordo sul super bonus c'è e poi via i vincoli dell'Isee di 25 mila euro e dei lavori per villette e seconde case. Poi invece pochi risultati e tanti soldi, i dubbi sull'incentivo che riguarda il bonus verde e appena 15 milioni di euro in più per anziani e disabili. Gian Antonio Stella dice soltanto una mancia. In centropagine invece i divieti di Capodanno, contagi record, salgono anche le vittime, l'ipotesi di allungare le vacanze di Natale per le scuole. Ci sono diverse misure allo studio senza tampone, niente feste e terza dose dopo quattro mesi. Sì a rigore ma niente test per i vaccinati dice Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e ci sono infatti voci molto contrarie riguardo all'ipotesi di fare i tamponi anche per chi si è vaccinato. Nella foto di centropagina Aya figlia del re Hussein non ha ottenuto i cavalli, si parla di un divorzio tra celebrità. Lemiro e la moglie divorzio da 650 milioni succede a Londra e ce lo racconta in prima pagina. Il Corriere della Sera. Invece nella spalla Plus Valencia, i nomi dell'Inter, l'esame dei PM e poi ancora occupazioni, linea dura del Ministero. Per quel che riguarda invece l'editoriale, i partiti alla sfida decisiva in vista dell'elezione al Colle della Nomina, al Colle del nuovo Presidente della Repubblica, la firma di Massimo Franco. Invece al taglio più alto, intervista al Sio, Profumo, Leonardo vuole essere leader, la prima del Corriere di quest'oggi. Andiamo a vedere la prima della Repubblica. L'ondata di Natale si legge in questa apertura di oggi, la lotta al virus nel nostro paese, superati 30 mila nuovi casi, l'incidenza più alta registrata tra i ragazzi. Già 10 mila le classi in didattica a distanza. Il governo prepara la stretta per Capodanno, ma le misure verranno decise sulla base anche della diffusione di Omicron. Vaccinarsi è patriottismo, intanto all'estero così le parole di Biden e in Israele via alla quarta dose. Corsa al tampone che salva la festa, scrive Maurizio Crosetti, ha fatto il tampone anche il Babbo Natale di Altan che vedete in questa vignetta. E poi manovra intesa sul super bonus, la casa fa il pieno di incentivi e si parla ancora di tutti i retroscene e i dettagli della legge finanziaria al Senato. Invece in taglio più basso, Inter sotto inchiesta nel mirino, 78 milioni di plus valenze, l'Expo a Roma un riscatto per voltare pagina. L'ipotesi della candidatura trova l'appoggio di Corrado Augias che firma il pezzo. Poi Quirinale, sei leader in cerca di un presidente, Berlusconi è senza autorità, dice Carlo Galli. Meloni Letta, attenti a quei due, è invece l'appello di Concita De Gregorio. Andiamo a vedere anche la stampa, tamponi anche nei luoghi a rischio, questa l'apertura di oggi con l'ipotesi appunto di realizzare dei test. E poi in centro pagina invece finisce l'era della pelliccia e ci vogliono anche dei fondi per battere l'anoressia. Questa è appunto, queste sono le due notizie nella foto a corredo delle due foto di centro pagina di quest'oggi sulla stampa. Andiamo a vedere anche le notizie finanziarie. Sul Sole 24 ore il primo sì alla manovra, le ultime novità, così cambiano i bonus per la casa della legge di bilancio. Si parla ovviamente del 110, via libera del Senato in commissione, tagli per IRPEF e IRAP, super bonus senza vincolo ISEE per le villette. Il bonus facciate invece scende al 60%. Le altre modifiche che sono state approvate, che adesso ovviamente dovranno passare il vaglio di tutto l'ITERA, prima che la legge venga definitivamente approvata, 180 giorni per pagare gli atti notificati fino a marzo. Si parla delle carrelle esattoriali, poi stop alla tassa sui tavolini per il primo trimestre 2022. Parliamo ovviamente delle tasse, quelle relative agli esercizi pubblici. Poi app e sociale più facile per edilizia e ceramisti, quindi siamo in ambito pensioni. Poi nuovi limiti e multe per chi non paga l'indennità di tirocinio. Sanzioni rafforzate contro le chiusure che portano poi a delocalizzazioni all'estero e 20 anni di sostegni ai comuni ma con tagli e più tasse. Si legge poi inoltre la proroga di due anni per il terzo settore stretta dell'IVA dal 2024, stop a termine adempimenti nel caso di malattia per le professioni libere e poi ancora ammortamenti e sospensione ripetibile nel bilancio del 2021. Nuovi record per luce e gas nel frattempo, tra l'altro la riduzione delle bollette è una delle voci, una delle più consistenti per la nuova manovra. Volano i costi industriali più 22% ed è statalice, anche la preintesa sul contratto, aumenti da 63 a 117 euro. Intanto nella foto di centropagina ZTE, qui in foto il CEO del Colosso che conferma un miliardo di investimenti in Italia. Vediamo anche il panorama nella spalla da Omicron tempesta in arrivo in Europa tornano le chiusure, così avverte l'OMS in Italia, oltre 30.000 casi stretta di Natale in vista e proprio domani dovrebbe esserci la cabina di regia, un incontro con il governo per capire quali saranno le misure per aumentare le misure di contenimento, per evitare l'aumentare del contagio in occasione degli incontri per le festività. Le altre prime pagine di quest'oggi, il fatto quotidiano, sempre più infetti ma non li cerchiamo, si legge, in 12 mesi hanno tagliato del 24% i tracciatori e il fatto ce l'ha con le regioni. Sorveglianza, addio, altro che Natale normale, 30.000 casi, 153 morti, possibile chiusura, ovviamente nelle ultime 24 ore, possibile chiusura delle scuole dopo le feste, il CTS non ha mai validato in due anni le mascherine chirurgiche come dispositivo di protezione individuale. Qui vedete in questo fotomontaggio alcuni presidenti di regione che si mettono le mani davanti agli occhi. Marchette di bilancio, Letta, Prosiena, Cattaneo, attacca in Senato, solita pioggia di favori assortiti, questa è la prima del fatto quotidiano. Il giornale invece, Cenone con tampone, questo è il titolo di oggi, verso la stretta, 30.000 casi, aumentano i ricoveri, verso l'obbligo di mascherina all'aperto e test per le feste, la scuola esplode, fra dad e controlli impossibili. Poi plus Valenze d'oro, anche l'Inter è sotto inchiesta, mentre invece al Milan nessuna criticità. Oggi la vera provocazione è dirsi Buon Natale, si legge in questo fondo, e poi la Boldrini, terrorista invitato alla Camera, la Boldrini fa infuriare Israele, ospite del Comitato sui diritti umani. Questo si legge sul giornale, che poi approfondisce anche il tema dell'eco bonus senza limiti, che cosa cambia? Accordo sulle ristrutturazioni delle villette non conterà l'ISEE. Andiamo su Libero, un terrorista alla Camera invitato dalla Boldrini, si legge un condannato palestinese parla di diritti umani a pontecitorio, stiamo sotto shock, dice Israele. La ministra Grillina D'Adora intanto raddoppia i fondi per celebrare i comunisti. Questa è la prima di Libero e poi nel centro pagina Fiammetta Borsellino, la figlia di Paolo, basta usare l'antimafia per fare carriera. Poi c'è il record annuale di contagiati, ma in pochi stanno male, oltre 1.000 in terapia intensiva nel 2020 erano 2.794. E non facciamo l'appello, in fine di Libero, di troppa confusione sulle Green Pass. La verità, il tampone sotto l'albero torna l'inutile obbligo di mascherina all'aperto, i test crescono di pari passo con i contagi, però le voci che il governo imporrà anche a chi ha fatto l'iniezione, il tampone, provocano il caos. Ecco gli esperti, sapevamo che i vaccinati si infettano, ma ce lo hanno però nascosto, commenta la verità, niente cure a domicilio, però arriva l'aborto, si legge ancora sulla prima della verità. Andiamo a vedere anche il manifesto Bed and Breakfast, è il titolo di apertura, corredo dell'immagine di quest'oggi, in foto c'è la Camera, dopo un oltre mese di sonno, la legge di bilancio vive una sola notte in Parlamento, poche ore in commissione per l'unico esame concesso alle Camere, sul provvedimento più importante. Da domani parte la corsa alle Aule, fino a Capodanno e a colpi di fiducia. Così commenta il manifesto con questo titolo particolarmente sarcastico. In taglio più alto invece più soldi all'istruzione, meno alle armi, l'appello del Papa e poi il Myanmar, l'Italia evita l'embargo. In taglio più basso, Green Pass e scuola, siamo appesi a Omicron per la situazione del Covid, morti 163 migranti davanti alla Libia e poi Putin alla Nato sull'Ucraina pronti a una risposta militare. Vediamo la prima delle Gazzettino, Veneto verso l'arancione, si legge nella foto di centropagina, nel titolo di centropagina, contagio ancora in crescita, salgono i ricoveri, zaia, prudenza o avremo nuove restrizioni, ricette Novax e lo strano caso dei medici a distanza a Venezia. Intanto a Cortina, dallo Stato altri 20 milioni per la nuova pista olimpica, Bob, il conto è di 61 milioni, paga il governo. Assalto fallito di 10 uomini d'oro, a Treviso blitz, al maxideposito smè con 6 furgoni, l'allarme li fa scappare, magro il bottino, il ladro fuggiva e non era stato violento, non fu legittima difesa, si parla della condanna in tribunale per Walter Onichini, il macellaio detenuto a Padova, che nel 2013 sparò ad un ladro. Poi vediamo anche nel fondo l'insensata euforia di politici e sindacati, si legge poi De Longhi, premia i dipendenti con 11 milioni, l'intervista a Cingolani, sfruttiamo i pozzi italiani contro il caro Bollette, l'osservatorio Natale, una festa di famiglia, l'albero vince sul presepe. Un taglio più alto ancora il Veneto, con lo stadio e il palasporto a Tessera, a Venezia il governo stanzi ai primi fondi, e a Padova, giusto da vicino, il restauro sverra il politico del Menabuoi. Ieri Udinese Salernità non si è giocata, la Juve però ha steso i Cagliari e ha recuperato due punti sulla Talanta, fermata dal Genoa, questa è la prima del Gazzettino, pagina nazionale. Andiamo a vedere allora anche la pagina dedicata al Friuli, sempre sul Gazzettino, con le notizie della nostra regione, e l'apertura di quest'oggi, dedicata a un fatto di cronaca, malore in casa, muore a soli, 25 anni, tragediare Manzacco, dove viveva con madre e fratello, il ragazzo di solo i 25 anni, che è morto, voleva diplomarsi, aiutava il padre, in un negozio. Poi il trend, la regione si allinea alla media nazionale, Novavax in calo, salgono invece i vaccinati, rifiuti in città, ecco le isole ecologiche, ok al fotovoltaico, sull'ex discarica, in cambio di alberi. In taglio alto, l'Udinese gioca la Dacia Arena, senza i campani, il Covid ferma la Salernitana, scatta l'incontro in famiglia, un po' come era successo l'anno scorso, per Juve e Napoli. Poi le test del DNA sulle viti da vino, sono figlie del Caucaso, una ricerca all'università, e ancora Tiziano Ferro, inizierà il tour 2023, proprio dal Teghile, di Lignano, questa, la prima delle friuli di quest'oggi. Andiamo a vedere anche le altre testate, della nostra regione, cominciamo a vedere anche le prime, delle altre province, il piccolo, il raddoppio di Kursko, contro la crisi energetica, si parla della centrale nucleare, vicina al confine, il numero uno del colosso statale, dell'energia sloveno, siamo pronti ad anticipare la decisione, se necessario. Poi invece, nella foto di centropagina, in arrivo 2 milioni per la piscina terapeutica, la piscina sul lungomare, a Trieste, che ricorderete, ha avuto un crollo strutturale, e appunto, il soffitto era collassato su se stesso, fortunatamente, senza nessun ferito. L'Art Bonus decolla, 283 progetti finanziati in regione da mecenati, manovra il Senato, 6 milioni e 300 mila euro, per la minoranza italiana, e gli esuli. Poi, picco di contagi, in Italia, in 24 ore, 30 mila casi, e il caso anche, della mamma, in gravidanza, colpita da Covid, intubata, è nata la sua bambina, all'ospedale però, di Verona, dove era stata ricoverata, la donna. Andiamo a vedere allora, qual è, la situazione del contagio nella nostra regione, negli ultimi 24 ore, facendo anche un po' il quadro dell'epidemia, con le ultime novità. Sono 515 nuovi contagi di giornate, in Friuli Venezia Giulia, a fronte di oltre 22 mila tamponi effettuati. Si conferma essere la prima fascia di contagio, quella degli under 19, con il 20,7% dei nuovi positivi a seguire, la fascia tra i 40 e i 49 anni, quindi quella dei 50 anni, e a seguire ancora i 30 anni, con il 14,17%. Sono stati 10 decessi, invece, le vittime di età comprese, tra i 58 e i 92 anni, erano residenti tra Spilimbergo, Trieste, Pordenone, Sacile, Turriaco, e Cervignano del Friuli. Le persone ricoverate in terapia intensiva, rimangono 29, mentre i pazienti presenti negli altri reparti, sono 299, rispettivamente, le soglie percentuali di occupazione, sono del 17 e del 23%, entrambe ancora sotto il livello, da zona arancio. Le persone in isolamento, scendono a 7.792, per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività, di 16 operatori sanitari, 3 ospiti delle residenze per anziani, e 2 tra il personale delle stesse. Nel frattempo, il governatore Fedriga è tornato alla carica, penso occorra puntare sulle terze dosi, e non sui tamponi per accedere ovunque. Se noi diamo questi messaggi discordanti, rischiamo di non proteggere i cittadini. La terza dose protegge bene anche da Omicron, non dobbiamo puntare su quello. Se cominciamo a dire che per fare attività ordinarie, serve il tampone anche per i vaccinati, rischiamo di perdere la campagna vaccinale. Se si mettessero limitazioni forti, o nuove chiusure pesanti verso le attività, penso che la gente non le accetterebbe più. E questo vorrebbe dire, ha aggiunto Fedriga, non che qualcosa si chiude, ma che il virus si diffonde. Se le nuove misure del governo saranno di buon senso, daremo il nostro contributo in modo unitario. In questo momento serve grande equilibrio. Ma, ha concluso il governatore, mi sento molto contrario anche al green pass obbligatorio per gli studenti. Rischiamo di andare in una situazione nella quale la misura diventerebbe incomprensibile. Come conferenza delle regioni, abbiamo chiesto una strategia per garantire la scuola in presenza e per salvaguardare studenti e famiglie. Queste allora le parole del governatore Fedriga di fronte all'ipotesi delle nuove misure allo studio da parte del governo. Andiamo a vedere anche la prima del messaggero Veneto, pagina di Pordenone, un progetto per unire azienda sanitaria Ecro. Il piano è stato stilato da dieci capi di partimento, se ne è già discusso con l'assessore Riccardi. E poi c'è la corsa al tampone, il test in farmacia, c'è il rischio code per il 24. In foto di centropagina, Salernitana assente a causa dei positivi, è scesa in campo solamente l'Udinese. Nelle cronache, Pordenone ultimatum del sindaco ciriani agli alleati forzisti, poi dovete mettere l'oro dentro il freezer, scappano con il bottino. Ancora la cronaca offerita in un incidente, scoprono che teneva la cocaina nel calzino. Premiazioni agli studenti per sport e fair play, sempre a Pordenone. E poi ancora ragazzi abituati a studiare da casa, ora si trovano in difficoltà, dicono gli psicologi. In taglio alto, morto dopo un mese d'ospedale, aveva 64 anni e non era vaccinato. E poi la nascita della bimba, della mamma, Novax, è in prognosi riservata la bimba, non la madre che appunto è in tubata. E questo è il documento segreto, dice il messaggero, per unire azienda sanitaria Friuli Occidentale e Cro di Aviano, stilato da dieci capi di dipartimento. È già stato discusso l'obiettivo di aumentare il peso di una azienda unica. Spostiamoci anche sulle pagine del messaggero di Udine, per vedere la prima di quest'oggi, con in apertura sempre la foto della Dacia Arena vuota, visto che appunto non si è giocato, secondo quello che dice il regolamento, l'udinese si è presentata, per poi effettuare una partitella in famiglia. Covid è poco personale, ospedali in difficoltà, il numero dei dipendenti è in calo da tre anni, i sindacati dicono, vanno fatte subito nuove assunzioni. Allora sentiamo i numeri per capire effettivamente qual è la difficoltà degli ospedali nel gestire l'emergenza e anche i turni di ferie, visto il periodo natalizio. 8.939 dipendenti a dicembre 2018. A giugno, dopo tre ondate di pandemia e prima che esplodesse la quarta, erano 8.833, 100 in meno, anziché in più. Dalla CGL Funzione Pubblica arriva l'ennesimo appello a Regione e Azienda Sanitaria Friuli Centrale ad assumere. Non possono trincerarsi dietro la mancanza di professionisti formati, si legge in una nota firmata dal segretario di Udine, Andrea Traunero. Concorsi e formazione di os e infermieri dipendono anche dalle scelte della Regione, di concerto con università e istituti di formazione. La verità è che non si assume per risparmiare. Tra le situazioni più difficili, quelle negli ospedali di Palmanova, Gemona, Tolmezzo e Udine. Nella città stellata, il numero di os al servizio nelle mediche si è più che dimezzato, scendendo dai 44 del periodo pre-pandemia agli attuali 20, con 64 degenti, al netto dei 12 posti Covid. A Gemona, nel reparto speciale di unità protratta, dove sono ricoverati pazienti neurovegetativi, e nella RSA, dove sono assistiti 16 positivi, di cui alcuni ventilati, operano solo 6 os e 6 infermieri, ferie bloccate. A Tolmezzo, con soli due posti letto per stanza e 46 pazienti da gestire, aumentano distanze e spazi da coprire. Alle prime malattie salteranno i riposi, cosa, dice Traunero, che avviene già a Udine, dove al sottorganico di base si sommano assenze fisiologiche dovute a malattie o altro. Tante le segnalazioni in medicina e area Covid, di richiami in servizio e torni sempre più duri. Fatica fisica, che si somma alla tensione emotiva per un lavoro in prima linea sempre più difficile da portare a termine. Regione e azienda sanitaria, conclude la CGL Funzione Pubblica, corrano ai ripari e assumano. Vediamo anche la pagina di Udine, quest'oggi sul messaggero, poco personale nei reparti, l'appello dei sindacati, lo abbiamo appena sentito in foto proprio all'ospedale con le varie criticità fra carenza di personale, assenze e anche la carenza di personale nelle medicine. Malati e pericolanti, sacrificati 85 alberi, il PD dice, è stato sbagliato il metodo, il numero è stato comunicato dalla consigliera del Torre dopo un accesso agli atti. Il vice sindaco precisa, Michelini, basta strumentalizzazioni su questo tema prima, ci vuole la sicurezza e poi gli effetti della legge dello Stato, tariffe per la telefonia mobile, persi 190 mila euro all'anno, queste sono le pagine di Udine, con anche una truffa che si sta diffondendo, quella del panettone, abbiamo parlato proprio ieri, donna derubata, una guida per evitare i raggiri online in questa situazione. Passiamo anche alla pagina sportiva, andiamo a vedere quello che è successo ieri sera, la Salernità resta a casa, l'Udinese aspetta il 3 a 0, ma poi scatterà il ricorso, il club campano, bloccato dall'asle locale, non si è presentata allo stadio, presenti solo i bianconeri, l'arbitro ha fischiato l'inizio e la fine, adesso la palla passa al giudice, dalla telenovela di Juve Napoli e Lazio Toro, tutte sono state rigiocate e così dice la storia di quello che si è verificato fino ad adesso. Voglia di giocare protocollo, non doveva essere un volo di linea, le varie reazioni dall'interno dello staff bianconero, peccato per il nostro momento di forma, ci sarebbe davvero da preoccuparsi, dice Cioffi, lo spirito vincente ci deve essere sempre. Poi in signa è positivo, è l'unico però del Napoli e poi una falsa positività per l'ex Napoli, Giorginio, in Premier. Poi l'intervista a Cinello che racconta tutto il partito dai tamponi per andare in vacanza, il vice allenatore friulano della Salernitana, le ultime 48 ore con città del club campano. La salute pubblica avviene prima di tutto, giusto non farci prendere il volo di linea per lunedì. Premier in campo a Santo Stefano, la Bundesliga invece ritorna a porte chiuse. E poi anche le altre partite di ieri, Juventus-Cagliari 2-0, Genoa-Atalanta invece pari a reti inviolate, zona Champions, la Juve a meno 4 dall'Atalanta. Intanto c'è il positivo del Genoa, Sheva però, Shevchenko, è riuscito a strappare un pari, è un punto importante, la Procura di Milano intanto indaga anche sull'Inter, 100 milioni di plus valenze in due anni. Andiamo a vedere anche il gazzettino, sempre pagina dedicata allo sport, con il campo della Dacia Arena desolatamente vuoto, cancellata dalla pandemia, l'ultima gara, prima della sosta natalizia, la sfida con la Salernitana, i bianconeri si erano presentati irregolarmente, si attende il 3-0 a tavolino, questa mattina, la vaccinazione di gruppo, non bisogna mai tornare indietro, dice Cioffi, e poi anche il punto sul mercato bianconero, con le parole di Pierpaolo Marino, siamo attenti alle opportunità per il mercato di gennaio, Arslan resta, Struger invece, è in partenza, questa è la pagina del gazzettino dedicata all'udinese, è a rischio, anche però la sfida con il Lecce, il virus aveva già bloccato i pugliesi in una trasferta a Vicenza, si parla ovviamente di Pordenone, ora l'assemblea potrebbe rinviare le prossime due giornate, intanto Aldemarchi, in attesa dei tagli, si sta allenando Davide Gavazzi, anche il vescovo è andato a benedire i nero-verdi, un po' come quello che è successo con l'arcivescovo Mazzoccato a Udine. Andiamo a vedere anche la Gazzetta dello Sport, con le prime di quest'oggi nazionali, cominciamo proprio dalla Gazzetta che in prima pagina mette la vittoria della Juve, Rieccola, Allegri a meno 4 dalla zona Champions, Guizzo di Ken, poi Bernardeschi, Cagliari battuto, sesta vittoria nelle ultime 8 gare a gennaio, dice Allegri, le sfide decisive, l'Inter prova l'allungo, a 90 milioni nel Mirino e poi allarme Covid, positivi, insigni e immobili, Napoli e Lazio, immobile Napoli e Lazio perdono i pezzi e poi nei guai la Salernitana non gioca a Udine, la FIGC però intanto conferma, ci vuole la cessione della società entro il 31 o la squadra sarà esclusa dalla Serie A, un po' come era stato già chiesto da tempo all'Otito che deve liberarsi di una delle due squadre, gol a Cercasi, Ibra non ce la fa, Pioli dà un'altra chance a Giroud e va sul mercato, il Milan a Empoli, tenta la ripartenza, Zapata va a K.O. e l'Atalanta non sfonda, sorride, Sceva che in casa riesce a ottenere un pareggio, appunto come detto, 0 a 0, questa è la prima della Gazzetta, velocemente anche le altre prime nazionali sempre di sport con il Corriere e tutto sport, sul Corriere Allegri rivede la luce, poi Plus Valenze Blitz all'Inter e il pugno duro di Gravina sulla Salernitana, mentre invece su tutto sport il Natale è della Juve, Vittoria che ridà il sorriso in vista delle feste alla squadra di Allegri in 45 mila per l'Inter ma il Toro però ci crede la prima di tutto sport. Noi ci fermiamo qui con questa rassegna stampa dopo aver sfogliato con voi le prime di quest'oggi e anche qualche approfondimento dedicato al nostro territorio però vi ricordo tutti i programmi in onda sul nostro canale quest'oggi a partire dall'informazione che ritorna alle ore 12 con il nostro telegiornale. Poi il pomeriggio invece spazio all'Udinese con pomeriggio calcio in diretta alle ore 15 alle 18.30 FWG motori come sempre il nostro TG alle 16 alle 19 alle 19.30 l'attualità con le pillole di Fair Play e invece questa sera alle 21 SAF 3 il nostro telefilm e alle 23 Fair Play il talk show su temi di attualità e politica insieme a Francesco Pezzella. È tutto per questo appuntamento perché sarà segna stampa grazie per averci seguito vi auguro un'ottima giornata in nostra compagnia Amici di Udinese TV ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di mercoledì 22 dicembre il tempo si mantiene ancora relativamente stabile sul Friuli Venezia Giulia e avremo condizioni per lo più soleggiate salvo un po' di variabilità ancora presente sulla pianura per quanto riguarda la previsione nel dettaglio delle province di Udine e Pordenone dunque non ci aspettiamo grandi novità tanto sole in montagna mentre in pianura possibilità di qualche nuvola vedete il clima tipico per il periodo con temperature minime intorno allo zero e massime sui 7-8 gradi anche sulla Venezia Giulia a tempo relativamente soleggiato con solo qualche annuvolamento residuo temperature un po' più alte lungo i litorali soprattutto nei valori minimi massime intorno ai 7-8 gradi per maggiori dettagli scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti